Wow 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 wow! Ma... are you kidding me right now? Per chi non l'avesse capito, la L Challenge Invitational Duck Team International Open Weight Staminchia Challenge Nico Inverarti, Mirko Mori Ma aspetta, non è che non avete capito la battuta? Era riferita a voi la cosa? Eh certo! Non hanno capito la battuta! No! Non è vero! Non hanno accettato perché loro sono delle bunch of pusses! E hanno troppo paura di affrontare the G1 Contender for the SAJ Openweight Championship Forse non hanno veramente capito la battuta E in tutto ciò, la SAJ Wrestling ha accettato la proposta di chi? Spencer! 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 E quindi una cosa così meravigliosa, unica, innovativa come questa Open... Non ho voglia di ripetere che stipulazione è questa! Diventa una baraccolata! Grazie al bel Spencerino Giobberino! E non fraintendetemi! Sarà un onore affrontare Man Like The Ray... Sarà un onore affrontare Man Like The Ray se sono suo grande fan, pensate, oppure la foto autografata When I say 0-1, you say 2-1, 0-1, 2-1! Peccato che ci sia Spencer! Sai, rovinà tutto! Mi sembra giusto! Sono così arrabbiato che mi verrebbe voglia di paccare lo show ma... D'essendo che la mia terza ragione di vita, oltre che vincere titoli e essere un uomo di successo e intrattenervi... Le challenge si farà! Ma il mio Tuck Team Partner chi è? Uh! 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 Beh signori, preparatevi fisicamente, mentalmente, psicologicamente per quello che vi sto per dire perché, signori, signori... Il mio Tuck Team Partner è niente meno che... Che cosa vuol dire costa troppo? Che cosa vuol dire non avete abbastanza soldi per John Cena? Mi avevate detto di proporre e io ho proposto. Perché vi volete deludere così? Pensate ai fan! Niente John Cena. Beh, allora piano B. Piano B, B, B. Questo sabato nascerà il Tuck Team più forte che sia mai esistito in Italia. Formato dal miglior ballerino slash wrestler del pianeta. Emanuel LG e il mio Tuck Team Partner. GG Gale. Insieme formeremo i GGG, i Tristia, John, Jadis, Spencer. My luck today is... We spoccheremo le ossa! Ciao ciao! Ciao ciao!